Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare dell'omicidio di Terra Nuova Bracciolini. Si stringe sempre più il cerchio sull'assassino ed intanto è stata fissata anche l'autopsia sul corpo della vittima. C'è sgomento e dolore in Valdarno per quanto accaduto all'alba di domenica 1 ottobre. In seguito ad una rissa fuori da un locale a Terra Nuova Bracciolini scatenatasi per futili motivi ha perso la vita il 38enne Joel Ramire Zaipo colpito alla gola da un pezzo di vetro tagliente. I carabinieri del comando Aretino, in particolare quelli della compagnia di San Giovanni Valdarno, stanno cercando di risalire all'identità del responsabile. L'inchiesta sull'omicidio è coordinata dalla PM Francesca Eva. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sicurezza del locale che hanno permesso di identificare una ventina di persone che hanno preso parte alla rissa. Alcuni di loro, assieme ad altri testimoni dell'accaduto, sono già stati ascoltati. Secondo indiscrezioni sarebbe un uomo la persona che ha scagliato l'oggetto di vetro contro la vittima. Il 38enne lascia una figlia piccola. In molti lo ricordano sui social anche un messaggio del sindaco di Montevarchi, Silvia Chiesai Martini. La comunità di Montevarchi si stringe attorno alla famiglia per la perdita di Joel Ramire Zaipo, che era arrivato a Montevarchi da bambino, poi il lavoro, l'amore, il basket e il giocatore del gioco del pozzo in Santa Maria. Non ci sono parole per esprimere il nostro dolore per una giovane vita spezzata. Un 36enne albanese invece è stato arrestato perché sulle sue spalle pendeva un ordine di carcerazione messo a giugno scorso dalla procura di Arezzo. L'uomo deve terminare di scontare una pena detentiva di due anni, sei mesi e 26 giorni per un attentato omicidio aggravato dal possesso di armi commesso ad Arezzo nella 2020. Da tempo era ricercato ed è stato rintracciato in un negozio di Empoli. Questa mattina invece alle prime luci dell'alba un incidente tra un mezzo pesante ed una ciclista lungo la strada regionale 73 tra San Zeno e Pievaltoppo. Sul posto i mezzi dell'emergenza urgenza è intervenuti attorno alle 5.30. Ferito il ciclista, un uomo di 49 anni portato in codice 2 al pronto soccorso. Intervenuta anche la polizia stradale per i rilievi di legge. E ancora cronaca, questa mattina un incendio nelle campagne aretine, un arrogo nel primo giorno del nuovo divieto di abbruciamento in tutta la Toscana. Vediamo il servizio. Le fiamme sono divampate nella mattinata nelle campagne di Arezzo. Un incendio che ha interessato un'olivieta in zona Poggio Mendico, domata dai vigili del fuoco di Arezzo, presenti con la squadra di terre e con l'elicottero. Ancora un incendio in questo anomalo e torrido inizio autunno. L'estate infatti sembra non voler mai finire e con le alte temperature di questi giorni il rischio roghi resta elevato. La regione toscana ha così deciso di vietare l'abbruciamento di residui vegetali da oggi sino al prossimo 22 ottobre. In tutto il territorio regionale, complice anche il vento, nell'ultima settimana si sono già verificati 25 incendi con 7 ettari di bosco ed altri 12 ettari di vegetazione percorsi dalle fiamme, molti dei quali originati da operazioni di abbruciamento di residui vegetali non gestiti nel rispetto delle norme. La mancata osservanza del divieto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia. Se si nota fumo in lontananza, la raccomandazione è quella di chiamare subito i soccorsi al numero unico di emergenza 112. Prosegue dunque il caldo record in tutta la Toscana. Ieri addirittura nel mare della costa d'Argento c'è chi ha deciso di farsi un bagno. Un bagno nel mare della costa d'Argento il 2 di ottobre, le temperature record di questo inizio d'autunno fanno ben sperare per un allungamento dell'estate e quindi anche delle presenze nelle località turistiche. Beh, questo non è merito mio, francamente. Restando la stagione non vuol finire, abbiamo avuto un settembre veramente buono anche dal punto di vista turistico. L'Argento viaggia parecchio in funzione del clima, quindi il clima buono porta la gente. In questo momento è un momento di tanti stranieri che trovano qui il mare ancora caldo e viene veramente la voglia di fare il bagno, insomma, nelle ore più assolate siamo in estate piena, insomma, quindi ben vengano questi ultimi turisti, anche se per noi il programma è quello che gli ultimi turisti non finiscano mai, cioè vedremo in qualche modo fare questo famoso allungamento della stagione che è una frase sicuramente ripetuta, rivisitata, eccetera, però insomma dobbiamo lavorare in questo senso. Il caldo anomalo di questo inizio ottobre ha fatto registrare nuovi record anche in provincia di Arezzo. Abbiamo avuto il record assoluto mensile di caldo provinciale che è stato segnato da una stazione meteo a Castiglion-Fibocchi, ben 34 gradi, spiega Simone Paolucci dalla chat di Arezzo Meteo. Torniamo a parlare dell'inchiesta Cheu, nella quale era finita anche a Levane l'impianto Le Rose. A fare il punto dopo la chiusura della messa in sicurezza, il sindaco Berini. Questo era uno step fondamentale da farlo prima dell'inizio delle piogge, i cumuli sono stati coperti e è stata fatta una regimazione per le acque superficiali in modo che comunque non ci siano pericoli di infiltrazione nelle falde acquifere che è diciamo il rischio maggiore. Però ora con i cumuli tutti coperti a questo punto si può dire che i rischi nel breve non ci siano di nessun tipo. È il sindaco Nicola Benini a fare il punto dopo la messa in sicurezza dell'area dell'impianto Le Rose al confine tra Levane e Levanella, nel comune di Buccine. Si tratta dell'impianto che era stato sequestrato nell'ambito dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze per lo smaltimento illecito del Cheu, residui di lavorazione dei fanghi di conceria di Santa Croce sull'Arno. 25.000 le tonnellate di terre inquinate scarti delle lavorazioni orafe stoccate nel complesso di frantumazione di inerti del polo produttivo levanese. I legali sia di TCA che di Chimet ne hanno approfittato per fare un sopralluogo nell'area nell'ottica di realizzare o comunque studiare, ipotizzare un intervento di bonifica. Questo perché appunto loro sono stati coinvolti in qualche modo nell'indagine perché avevano conferito materiale alla ditta indagata e quindi hanno dato la disponibilità a valutare un loro intervento diretto ovviamente poi riservandosi di rivalersi contro gli effettivi colpevoli di questa vicenda. Buone notizie anche per la collinetta che sovrasta l'impianto e nella quale i carabinieri forestali avevano accertato la presenza di inquinanti. L'ARPAT ha richiesto giustamente ulteriori analisi e sono state fatte nell'estate quindi dovrebbe essere questione di giorni diciamo l'esito e quindi la definizione dell'intervento anche lì per la messa in sicurezza. La notizia importante degli ultimi giorni è che comunque l'amministratore giudiziario ci ha in qualche modo comunicato che hanno comunque anche già le risorse per la messa in sicurezza della collinetta quindi una volta che le carte sono a posto anche lì si partirebbe speditamente per la messa in sicurezza. La questura di Arezzo ha celebrato oggi cento anni del poliziotto Carmine Morrone al quale è stata anche consegnata una medaglia da parte del capo della polizia. Io sono nato il 3 ottobre del 1923, oggi compie cent'anni Carmine Morrone, un traguardo celebrato in questura ad Arezzo. Mi scappa qualche legge in buccia perché non me l'aspettavo, non mi aspettavo di arrivare a 100 anni, non mi aspettavo che non conoscia il computer e imparare ad usarlo, a scrivere un libro già pubblicato, il secondo è da finire ancora, poi ce ne sarebbe un terzo di solo poesie. Si è arruolato solo nel 1942 dal suo foglio matricolare che abbiamo avuto il piacere di trovare in archivio. Nato a Galluce, arruolato nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza il 14 novembre del 1942 dopo aver frequentato corsi di formazione e specializzazione nella sua decennale carriera, ha prestato servizio presso i reparti celere mobile di Genova, Roma, Parma, Piacenza, Padova, Bolzano e dal 1969 al 1983 presso la questura di Arezzo. Cosa ha rappresentato nella sua vita la polizia? Ha rappresentato tutto. Consegnata anche una medaglia a ricordo da parte del capo della polizia. Il capo della polizia con gratitudine. Con gratitudine. Qual è il segreto per arrivare così a cent'anni? Vita tranquilla. Vita riposata. Perché è camminare molto. Parliamo di scuola. Fino a venerdì 20 ottobre è possibile presentare domanda per ottenere il contributo MIUR a titolo di rimborso delle rette di frequenza pagate durante lo scorso anno scolastico dal settembre 2022 al giugno 2023 dalle famiglie dei bambini iscritti agli asili nido e alle scuole dell'infanzia comunali e private. I requisiti necessari sono la residenza nel comune di Arezzo ed essere in regola con il pagamento delle rette. E questa mattina sono stati presentati anche i risultati del progetto Estrae Diversa Indagine Psicosociale ESSERCI un progetto di continuità con le azioni di supporto già svolte nel territorio aretino nell'ambito della presa in carico dei bisogni delle fasce più deboli della popolazione nello specifico gli adolescenti con rischi psicosociali e disabilità di vario genere. E' stato preso in analisi un campione composto da 20 ragazzi con disabilità e 5 ragazzi senza disabilità 10 famiglie e 10 operatori. I dati ottenuti hanno permesso di confermare l'importanza delle attività svolte. E lo scorso fine settimana ad Arezzo è tornata l'iniziativa di Lega Ambiente Puliamo il Mondo i volontari si sono messi a lavoro lungo il torrente Castro. Hanno raccolto sacchi stracolmi di rifiuti di ogni genere, in particolare plastica, bottiglie, sacchetti, giocattoli e confezioni di prodotti consumati e poi lanciati con troppa disinvoltura nel fiume. Decine i volontari di tutte le età che hanno partecipato all'edizione 2023 di Puliamo il Mondo, la maxi campagna di educazione ambientale promossa da Lega Ambiente. Ad Arezzo è stata l'occasione per richiamare l'attenzione sui corsi d'acqua che attraversano le aree urbane, passate così al setaccio le sponde del torrente Castro. È un messaggio per tutti perché purtroppo proprio nei corsi d'acqua, anche quelli estraurbani, ma in quelli urbani in particolare si convogliano rifiuti che sono a volte anche abbandonati nelle aree circostanti. Ora per esempio siamo in un giardino che è comunque vicino al Castro e quindi il vento, l'acqua, il dilavamento, purtroppo tutti i rifiuti che anche sono stati abbandonati qui li porterà prima o poi nel fiume. E poi ci sono anche degli abbandoni purtroppo diretti nel fiume, anche di ingombranti. Questo è molto pericoloso perché un rifiuto ingombrante collocato nel fiume, nel momento in cui arriva la piena, può proprio provocare delle ostruzioni e quindi delle protogenatiche anche importanti dal punto di vista idraulico. Voglio però riportare l'attenzione che qualsiasi rifiuto abbandonato, anche una piccola bottiglia di plastica, anche quindi è comunque un atteggiamento da dover cambiare perché poi la plastica finisce sul fiume, col tempo si logora, si sminuzza, diventa una microplastica che piano piano dal fiume arriva fino al mare e va a sconvolgere tutti gli equilibri degli ecosistemi. Ricco purtroppo, come sempre, il raccolto decine di chili di materiali recuperati, selezionati e correttamente avviati allo smaltimento. Sono iniziative che tendono poi, questo è importante, a sensibilizzare sempre di più le persone, anche se è vero che le persone che partecipano in genere sono già molto sensibilizzate. Però il passaparola, il vederle attive, il sentire i risultati della raccolta, eccetera, sono uno sprone affinché anche gli altri, tutti noi, mi ci metto anch'io, si adottino comportamenti sempre più consapevoli e rispettosi dell'ambiente che ci circonda. Questo fine settimana invece anche i musei aretini aderiscono alla giornata nazionale delle famiglie al museo. Tra questi la MUMEC, il museo dei mezzi di comunicazione, con un'apertura straordinaria e un ingresso a prezzo ridotto. Magia del cinema, scoperta delle tecnologie pre-internet e cellulare, storie di grandi personaggi e grandi inventori, assieme alla mostra Cellulart ed infine a un laboratorio per grandi e piccoli esploratori. Ed ha preso anche l'avvio, il restauro del portale meridionale della Cattedrale dei Santi Pietro e Donato, il più antico e simbolico del Duomo di Arezzo, che purtroppo si sta irreminabilmente sgretolando. L'intervento, che cercherà di arrestare il processo di degrado e di valorizzare quanto ancora si conserva, è stato reso possibile grazie alla sensibilità di Ancos in collaborazione con Confartigianato. Il lavoro, autorizzato e seguito sotto la sorveglianza della Soprintendenza archeologica delle Belle Arti, il paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo, è eseguito da restauratori qualificati. E adesso voltiamo pagina. A ruote nella storia il raduno delle auto storiche promosso da ACI, storico ed organizzato dall'Automobile Club di Arezzo, domenica parte da Arezzo e arriva in piazza del municipio a Castiglion Fiorentino, ad accoglierli i reoni con i sfavillanti colori e le suggestive melodie delle chiarine e dei tamburi. Successivamente è prevista una visita al sistema museale castiglionese. L'occasione sono i festeggiamenti dei cento anni dell'ACI. Ad Anghiari invece domenica 15 ottobre arriva l'undicesima edizione dell'Intrepida, la cicloturistica su bici d'epoca che nel corso degli anni ha più volte superato quota 100 partecipanti, diventando seconda per numeri e prestigio in Italia e un appuntamento da non perdere per tanti appassionati. I percorsi saranno come sempre tre, corto da 42 chilometri, lungo da 85 e infine l'Intrepido da ben 120 chilometri. E adesso passiamo alla calcio. L'Arezzo è fuori dalla Coppa Italia. Gli Amaranto hanno perso 4-3 al Comunale contro la Lucchese in una partita in cui gli errori difensivi sono stati numerosi e clamorosi da entrambe le parti. Sentiamo le interviste nella fine partita di Mister Indiani di Foglia, autore di uno dei gole dell'allenatore della Lucchese. Sono soddisfatto della prestazione, della partita e chiaro dell'uso del risultato perché a quel punto mi piaceva anche andare a supplementare ma è venuta la partita e che presumevo venisse, hanno giocato tutte le seconda linee, hanno fatto quello che erano in grado di fare e ha dato delle indiazioni importanti e assolutamente, assolutamente non mi strappo certamente le vesti perché siamo andati fuori in Coppa Italia. Una partita di Coppa Italia è ovvio che sia così. Se pretendevi vedere una partita di campionato, il tatticismo con l'attenzione, è giusto che sia così, è giusto che oggi sia venuta una partita del genere. Cercando di andare sempre, cercando di attaccare, c'è un pizzio di rammario perché qualche errore a questo livello non si dovrebbero fare e ci hanno pedito di proseguire nei supplementari però. Prendiamo quello di buono se visto e pensiamo al Cesena. Si è giocato a Trombini, evidentemente c'era un motivo, l'ho visto, qualcuno pensava, no, diceva come mai gioco a Trombini, è simpatico all'allenatore perché lo sentiva chiesto. Mi è piaciuto molto, molti ragazzini che è entrato l'ultimo, che è entrato l'ultimo 20 minuti. Un altro turno, mi piaceva farlo sicuramente, ma poi andavi via. Cioè, ho pensato di arrivare in fondo a Coppa, con l'organo che abbiamo noi, con quello, diciamo, noi siamo la Lucchese, c'è 22 titolari, insomma. Ragazzi, ma le vedete le partite, no? Se avevo 22 titolari anch'io mi rompeva andare fuori, è la verità. Così, così assolutamente, assolutamente, assolutamente. Fa piacere per il gol, però come ho detto anche prima, non è servito al passaggio del turno, quindi comunque non è che mi renda così felice come, insomma, avrebbe potuto essere. La delusione c'era perché comunque la partita è stata fatta, secondo me, bene, in chiave offensiva molto bene. È chiaro che in fase difensiva dobbiamo migliorare. C'è poco da dire se subisci sempre tanti gol o comunque subisci gol vuol dire che qualcosa non va. È chiaro che nei dettagli dobbiamo cercare di essere più concreti e cambiare un po' questo andazzo. No, no, l'atteggiamento penso ci sia stato anche perché la partita è stata fatta. È chiaro, come ho detto prima, che bisogna un attimo registrare quello che è la fase difensiva e quello che è comunque il riuscire a creare per loro meno occasioni da gol. È una partita divertente con tanti errori, tanti gol. Quando ci sono tanti gol ci sono anche degli errori, però poi nel calcio se uno 0-0 penso non era piacevole. Quindi alla fine sappiamo entrambi, penso anche il mister indiani, che abbiamo fatto degli errori, però entrambe le squadre hanno fatto giocare ragazzi che hanno meno minutaggio. Penso che facevano 35 gradi, credo, o di più, quindi non era facile. Hanno battagliato tutti e 22, 28, quanti sono entrati in campo e alla fine prendiamo le cose positive e sappiamo anche che ci sono stati degli errori da migliorare. Partita dopo partita è un girone difficilissimo. Magari qualcuno a volte si dimentica questa cosa. È uscita alla Reggiana, sono entrate spalle Perugia, Pescara, Juventus, quindi matematicamente tre posizioni sono occupate da squadre potenzialmente che vogliono vincere. E noi siamo partiti, ma non faccio pronostici, tanto giochiamo sempre per provare a vincere ogni partita, quindi vedremo poi a Lunca dove possiamo arrivare. All Star Arezzo Ollus ha partecipato alla cerimonia di chiusura delle iniziative di carattere sociale promosse dalla Presidenza della Repubblica a favore delle persone con disabilità. L'evento, ospitato nella tenuta di Castel Porziano alle porte di Roma, ha riunito anche gli atleti tecnici della nazionale italiana Special Olympics che nel mese di giugno hanno gareggiato ai World Games di Berlino e che ha fatto affidamento anche sul contributo di tre atleti aretini, Michael Umaia Lalli, Francesco Giorgi e Claudia Del Tongo. Il cuore dell'incontro è stato l'intervento con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti.